All'interno di un'abitazione di Siderno, personale della squadra mobili della Polizia di Stato, arrestato un 29enne indiziato allo stato del procedimento di detenzione di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli approfondimenti investigativi che hanno portato all'arresto sono stati avviati lo scorso 23 gennaio, quando la Polizia Stradale di Vibo Valenza, nel corso di un controllo stradale sull'autostrada 2 del Mediterraneo, ha sorpreso il 35enne originario di Siderno nell'atto di trasportare a bordo di un'auto a noleggio un rilevante quantitativo di cocaina, circa 1,8 kg, chiedendo di effettuare una perquisizione presso l'abitazione di residenza. E proprio nel corso della perquisizione non è passato inosservato il comportamento del fratello giovane dell'uomo controllato alla Polizia Stradale di Vibo, che ha mostrato particolare preoccupazione, inducendo gli investigatori a controllare i suoi spostamenti una volta terminata la perquisizione domiciliare che non ha permesso di rinvenire ulteriore stupefacente. Così si è riuscito a risalire ad un ulteriore immobile di Siderno, dove il giovane si recava nella tarda mattinata dello stesso giorno, facendovi accesso con un atteggiamento che ancora una volta insospettiva gli agenti e la Polizia di Stato, cui a quel punto hanno deciso di entrare per effettuare un controllo. Ma appena si sono accorti alle forze dell'ordine, l'uomo ha fatto momentaneamente perdere le proprie tracce, guadagnando la fuga attraverso la finestra del bagno. E' stato poi rintracciato dopo pochi minuti, mentre usciva da uno stabile risultato riconducibile ad un suo congiunto, nonostante avesse cercato di trarre in inganno i poliziotti, indossando un giubbotto diverso da quello precedente. Nel frattempo, il personale rimasto a presidere l'immobile, di fatto disabitato da tempo ed adibito al deposito, ha rinvenuto e sottoposto a sequestro all'interno dello stesso sette pistole, tutte clandestine, perché prive di matricola un grande quantitativo di munizioni, circa un chilo e mezzo, suddivisi in 15 buste di marijuana, un chilo e tre suddivisi in tre buste di hashish. L'uomo, così dichiarato in arresto e in fragranza di reato per violazione della normativa in materia di armi e stupefacenti, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi adempimenti di rito. Per questi reati, il giudice ha applicato all'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.